Questo è un bellissimo viaggio, è la seconda edizione della Carditello Reale. Cosa vuol dire la Carditello Reale? È un viaggio che attraversa l'Italia dal nord al sud, lo scorso anno da Venaria Reale fino a Carditello, quest'anno da Monza fino a Carditello. Lo scopo è quello di unire, diciamo, attraverso lo sport, attraverso il benessere, attraverso l'amicizia, come dimostra anche oggi l'incontro, diciamo, con il gruppo ciclisti di Aragni. Ecco, l'Italia è insieme alla cultura. Ecco, Carditello è un sito reale, e noi attraversiamo alcuni dei luoghi più importanti d'Italia e lo facciamo insieme, diciamo, ad altre persone. Ecco, per cui, diciamo, questo è il valore principale che assume un significato doppio, se vogliamo, in relazione al periodo post-Covid che abbiamo attraversato, in cui abbiamo dovuto stare, come dire, tutti separati forzatamente. Invece noi, nel nostro piccolo, cerchiamo attraverso questo viaggio di far conoscere Carditello, che è un luogo eccezionale, ma anche, diciamo, di unire, con uno spirito di solidarietà, l'Italia da nord a sud.